Leva una curiosità, chi te l'ha detto che hai fatto il giacchetto? Pillulare a cassa di nervo? No, no, non mi ricordo di mai. Ti ha detto quelli imbecilli di giacchetto? No, non me l'ha detto il giacchetto, veramente. Fatte comunque il giacchetto è bocciato, si crede. Ma no, non me l'ha detto. Ma non ti preoccupare, non è che lo boccio per questa cosa qua, perché è bocciato dall'inizio dell'acqua, quando è entrato in classe ho detto questo lo boccio, perché è istinto, so già chi fa stare. Vabbè, fossi stati i giacchetti comunque, questi mamici, due volte dicevi, guarda, l'ha detto i giacchetti. E allora dì, va bene, va bene. Tu facci a tutti quanti, pure De Luca, c'è giù da lì, vicino a dire, De Luca ma non ti preoccupare, anche i grandi sbagliano. Che grandi sbagliano, va a dire frasi filosofiche ai bambini, fai il mestiere tuo, non ti mettono a fare il bidello filosofo.